Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, avevo detto e avevo sottolineato nel video di stamattina che il Milan avrebbe battuto un po' esagerando, un po' giocando un record mondiale, cioè quello di preparare una partita di calcio di Serie A in un giorno. No, ho sbagliato, in due ore. Due ore, due ore e mezzo, non so quanto durerà l'allenamento, che deve ancora iniziare, deve essere ancora disputato. Quindi Milan che cercherà di vincere contro il Genoa battendo il record mondiale di preparare la partita in due ore, perché non c'era tempo, non c'era spazio, anche perché il collega Antonello Gioia di Milan News ci dice che il Milan non ha battuto solo quel record mondiale, lo dico io questo, ma un altro record. Nessuna squadra, Atalanta, Lazio, Roma, eccetera, eccetera, aveva giocato, aveva effettuato due trasferte in tre giorni, dormo in Genoa, non è mai capitata a nessuno, solo al Milan, altro record. Ci vantiamo di questo record, ma a parte questo sarcasmo, a parte questa riunia, tutti sappiano che noi sappiamo, tutti sappiano che non siamo contenti, tutti sappiano che va bene così, tutti sappiano che non sappiamo chi abbia deciso questo, se chi abbia influenzato di più, non lo sappiamo, ma non ci va bene, non ci va bene, cercheremo di supplire anche a questi problemi, a superare questi ostacoli, ma sappino che non ci va bene. Non facciamo finta di niente, ecco, Pioli non è certo contento così metodico, così attento ai dettagli e di preparare tutto in due giorni, anzi in due ore, scusate. Detto questo, quindi la notizia che vi sto dando è proprio quella che anche, battiamo l'altro record, che in tre giorni nessuna squadra italiana in Champions League aveva avuto due trasferte in tre giorni. Anche questa cosa qui facciamo finta. Per quello che riguarda i dubbi della formazione dovrebbe rientrare certamente Florenzi, vediamo Tomori, Ciaos verranno confermati, l'altro dubbio è a centrocampo, cose che poi vi dirò nel video di questa sera, speriamo di avere delle risposte. Musa, Pobega è l'altro dubbio a centrocampo. La domanda che faccio anche a voi, ragioniamo a voce alta, Leao gioca, Giroud è stanco, gioca Okafor. Mette Pulisic o Cukvueze? Preferisce mettere uno dei titolari, uno dei suoi pretoriani come Pulisic o vuole dare fiducia a Cukvueze cercando di dare ancora più incisività all'attacco? Questo è l'argomento a livello tattico e l'argomento a livello di formazione che più ci solletica. Penso proprio che questo sia l'ultimo dubbio di Stefano Pioli, però è anche un dubbio che va oltre la figura, va oltre perché Pioli deve decidere che indirizzo cercare di dare alla partita. Con Cukvueze è un indirizzo molto offensivo. Con Pulisic, certamente offensivo perché non è un giocatore che viene molto indietro, però un giocatore meno esplosivo là davanti, ma magari più bravo un pochino più indietro. Quindi questo è uno dei grandi temi della vigilia di Genoa-Milan. L'ultima sconfitta a Genoa nel 2016, ho letto sempre questa mattina le statistiche, per il resto il Milan a Genoa ha fatto bene e speriamo che anche domani la squadra rosso-nera possa chiudere questo secondo blocco, il primo chiuso a metà settembre, adesso questo a metà ottobre con una media straordinaria. In questo momento abbiamo la media del 2.57. Se dovessimo vincere, fate voi la divisione, andremmo a 21 punti in otto partite, credo. Quindi quasi la media del 3, quasi, 2.70, 2.80, quindi una media straordinaria. Però per arrivare a questa media bisogna vincere a Genoa e non sarà facile, ripeto, anche perché la parida è stata preparata molto in fretta, non c'era altro mezzo. Tanto è vero che domani il Milan parte in aereo per Genoa, 40 minuti di volo, proprio per cercare di ridurre più spazio possibile. Pensate come siamo costretti per questa scelta di mettere il Milan alla sera del sabato, cosa Milan è costretto a inventarsi per permettere di preparare al meglio questa partita. Un altro tema che mi sta incuriosendo. Allora, per quello che riguarda lo stadio, ho letto anche oggi una dichiarazione del sindaco Beppe Sala, che riguarda appunto la possibilità che una squadra, se rimanesse una squadra, potremmo aiutare, il comune potrebbe aiutare a, diciamo, la squadra che rimarrebbe eventualmente a San Siro nei lavori. Io ho sempre avuto una sensazione, ve lo dico proprio tranquillamente. Visto che il Milan va avanti con la sua strada per andare a San Donato, adesso ci saranno ovviamente nuovi studi riguardo alla viabilità, al master plan, non parliamo di stadio ma proprio delle strutture intorno allo stadio. Io, ma è una mia sensazione, figlia, figlia, vediamo chi mi scrive, no, figlia del nulla. Alla fine, secondo me, all'Inter rimane a San Siro. Vedo queste frasi del sindaco Sala, che ovviamente non vuole essere il sindaco che allontana le due squadre di Milano da San Siro. La situazione è abbastanza chiara, San Siro non può essere toccato, non può essere distrutto e allora ci è stata anche quest'altra frase del sindaco. Poi, dove giocherà l'Inter nel caso di ristrutturazione di San Siro? Questo non lo so, non riesco a immaginarlo. Non credo che chieda al Milan di ospitarla nel suo nuovo stadio. Tutto è possibile, una richiesta di questo genere mi parrebbe in vero curiosa. Però, non lo so tutto, sapete che nel calcio tutto è certamente realizzabile. Però anche questo punto è un punto curioso. Comunque il Milan va avanti e Giorgio Forlani è stato molto chiaro a bordo campo prima della partita contro il Borussia Dortmund e ha detto che mi piacerebbe proprio che nell'agosto o nel settembre del 2028, quando si giocherà la prima partita di campionato, vorrei proprio che si giocasse a San Donato. Calendario, eh? Speriamo che nel 2018 non succedano altre grosse cose riguardo ai nostri calendari, ma in ogni caso dovremmo giocare ad agosto o a settembre. E Giorgio Forlani, l'amministratore delegato, si augura proprio che si possa giocare a San Donato. Signori, nel 2025 i lavori inizieranno. Ormai mi sembra che sia tutto chiaro, è venuta fuori questa sciocchezza, non uso frasi, questa sciocchezza di, io non riesco a capire come si possa dire alcune cose, di un parcheggio da 15.000 macchine. Ebbene, un parcheggio di 15.000 macchine è come se fosse tutto il parco, altro che San Siro. Scusate, altro che lo stadio di San Donato. Tutto il parco per tenere 15.000 macchine. Un parcheggio di 15.000 macchine è una cosa che chi la dice, cioè, deve calcolare, guardare le planimetrie, sapere qualcosa di aritmetica. E' come se, cioè, 15.000 macchine. Le macchine hanno già detto che saranno 700, quindi non un decimo di 15.000, il 5% di 15.000. Saranno 700, c'era uno spazio per 700, uno spazio ben delimitato. Addirittura, pur di dire delle sciocchezze, signori, lo stadio andrà avanti. Andrà avanti a San Donato, cercheranno di trovare. E mi dispiace anche che, come alla Maura, ci sia ancora qualcuno che pensi che il Milan versi una colata di cemento poi finita lì. Mi dicono che potrebbe non nascere intorno dei supermercati, ma potrebbero essere degli spazi tipo, magari, non lo so, Scalo Milano, Vicolungo, cioè dei posti dove si può vivere tutto l'anno, perché sono posti dove si possono andare a effettuare degli acquisti, sotto Natale. Insomma, dovrebbe questa zona, che in questo momento è un totale degrado, dovrebbe cominciare a vivere una nuova vita e per il bene anche proprio di quei, di coloro che abitano lì intorno. Questo è l'obiettivo del Milan, che vuole uno stadio nuovo. Ristrutturare San Siro vuol dire che il costo sarebbe come costruire un nuovo stadio, costi esorbitanti con tutti i problemi che ha San Siro. Io penso che alla fine potrà anche esserci questa possibilità, non chiedetemi particolari. Però vedo che il sindaco Sala continua a lanciare dei messaggi, vediamo un po' come poi si evolverà. Certamente, dobbiamo anche sottolineare che se l'Inter volesse eventualmente vendere, se Zang volesse eventualmente vendere l'Inter, un conto avere un progetto di uno stadio nuovo, un conto alla ristrutturazione di San Siro. Certamente sarebbe più appetibile la possibilità di uno stadio nuovo. Perché, diciamolo chiaramente, il Milan mi abbia da San Siro. Non perché San Siro abbia ripudiato San Siro. Perché San Siro non è uno stadio moderno che possa permettere di colmare il gap con le squadre più forti. Questo me l'ha sempre detto Giorgio Furlani quando non era amministratore delegato, ma lavorava ancora al fondo Elio, gli chiedevo qualcosa. Dice, Carlo non devi continuare a chiedermi di mercato. Il problema è stadio, 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 stadio. Ristrutturare San Siro sarebbe una cosa meravigliosa a livello romantico, però a livello pratico non so, proprio perché non ci sono gli spazi per gli skybox. Insomma, per fare uno stadio come abbiamo visto tutti il Tottenham Hotspur Stadium. Quindi questa è la situazione anche per quello che riguarda lo stadio. Ma quello che ci interessa è capire chi giocherà contro il Genoa e nell'unico allenamento qualcosa sapremo. Perché, come ho detto, il Milan comincia oggi gli allenamenti in pista di Genoa, ma il Milan finisce oggi gli allenamenti in pista di Genoa. Noi battiamo i record mondiali. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrado.